Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del Crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o rocaforte dove mi sono recato una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la città sospesa di Volana, mi sono recato personalmente nel mercato locale dove mi è stato suggerito un prodotto che attirerà l'attenzione di ogni aspirante re dei pirati. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del Crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia il dodicesimo starter del TCG di One Piece che vede protagonisti Zoro e Sanji. La scatola presenterà l'immagine dei due personaggi iconici della serie intenti al combattimento con il titolo del prodotto subito sotto, il numero di pubblicazione di riferimento, i vari loghi della casa produttrice e altre info generali sulla parte frontale, il solo titolo dell'articolo su trama bicolore stampata sulla parte superiore, il Jolly Roger assieme al nome del GCC in questione con la sigla dello starter in trama blu e una finestrella in basso che raffigurerà Sanji sul lato destro e Zoro accompagnato dalle stesse diciture ma in trama verde su quello sinistro ed il contenuto dello starter con tutte le informazioni legali del caso descritte sulla parte dorsale. Una volta aperta la confezione troverete al suo interno lo starter deck che vedrà come leader le due ali di cappello di paglia, 10 don ed un vademecum delle regole che fungerà anche come eventuale playmat per muovere al meglio i primi passi nel TCG a tema piratesco. Il deck in questione vedrà diversi elementi che potranno tornare utili a chi è nuovo del gioco andando a sostituire per quel che potranno character o event fondamentali per la strategia di un determinato mazzo. Ad esempio Duval potrà sostituire al meglio Doflamingo Blocker, è vero che possiederà un valore di forza minore e un effetto più limitante, tre carte visionate dal Fish Rider contro le cinque dell'ex membro della flotta D7 ma a livello di costo potrà entrare già dai primissimi turni di gioco possedendo allo stesso modo l'abilità Blocker, Quina che risulterà simile ad Izzo, Zoro Verde costo 4-6000 forza che non sarà affatto male da utilizzare in un mazzo control, Sanji Blue che già da subito potrà dare problemi alle linee avversarie e Lion Strike che a mio parere potrà essere un'ottima alternativa a Pan Gibson. In più ci saranno le due SR rappresentate da Ivankov e Mihoek che potranno essere utilizzate rispettivamente in un deck blu dove ci sarà bisogno di alimentare il motore di pescata del deck, magari inserendo anche forze fresche direttamente dal mazzo in campo, ed il secondo al servizio di quasi ogni leader che avrà o condividerà il verde come tonalità. Quindi conviene acquistarlo? La risposta è sì, per alcuni elementi che possono trovare spazio in mancanza di carte appartenenti ai primissimi set e soprattutto per chi sta iniziando a giocare, mentre per i collezionisti e i pirati veterani valutate se magari acquistare unicamente le singole vi converrà più che comprare l'intero prodotto, ma sia in un caso che nell'altro procedete senza indugio procurandovi almeno due copie così da possedere ogni singola carta in playset pronta per essere utilizzata all'occorrenza. Tenete conto anche che il suo costo indicativo sarà di 20 euro e i leader, o in questo caso i leader, a mio parere non saranno poi così performanti in un meta popolato dai vari Moria, Perona, Reju, Enel, Kata, Saka, Baned permettendo e via discorrendo, anche se per curiosità un deck di sicuro lo proverò. Quindi questo starter non avrà un impatto decisivo sulle dinamiche di gioco introdotte in OP-06, ma rappresenterà un ottimo entry level per tutti coloro che vorranno approcciare questo TCG non escludendo il fattore supporto. In che senso? Qui ci saranno carte che potranno tornare utili a tutti coloro che vorranno esplorare a fondo le potenzialità del sesto atto del GCC in questione e grazie a tutti gli elementi contenuti in esso di iniziative se ne potranno prendere a IUSA. Prima di concludere volevo ringraziare Luis e la fumetteria Loop Games per aver fornito gli articoli trattati in questo contenuto. Come sempre tutti i riferimenti li troverete in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli emporri del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!